A settembre, la prima volta che abbiamo usato i mix media, li abbiamo messi tutti insieme, tutti i materiali in quattro display. Quattro? E come sono andate le vendite? Ma benissimo, quasi dall'inizio abbiamo cominciato a lavorare prima con i fantasy, però dopo fino a metà di ottobre abbiamo cominciato a lavorare con tutti i materiali benissimo. E come è fatta a far conoscere il concepto? Abbiamo già fatto quattro presentazioni a negozio con il mix media che era aperto al pubblico e poi vogliamo fare una presentazione ai nostri clienti e agli altri negozi per sapere il mix media. Abbiamo fatto un'altra presentazione, un magazzino greco molto famoso di arte e hobby. Adesso ad aprile parteciperemo a una fiera soltanto con il mix media. Dunque i premi risultati sono ancora gente? Sono... è andato benissimo. Siamo molto ottimisti perché è un materiale veramente buono. Siamo molto ottimisti perché è un'altra presentazione.